Una proposta che esplora il lavoro di 18 fotografi di cui opere saranno esposte in Piazza dei Martiri, Piazza Vittorio Emanuele, Via Rialto, Piazza delle Erbe e Piazza Duomo. Prenderà il via tra due settimane il Belluno Photo Festival organizzato da Lab77 e Comune di Belluno. Il primo festival che si tiene nella città di Belluno dal 19 di aprile al 7 giugno nelle piazze della città. Ormai penso che si veda un po' dappertutto, insomma siamo in tutte le piazze più o meno. Sono tutti artisti di livello internazionale, vorrei ricordare tra tutti i due italiani premiati Wordpress, quindi Gabriele Galimberti e Paolo Verzone che penso sia la prima volta che espongono insieme, perché sono anche degli amici quindi sono molto contenti e lo sono pure io. Gabriele Galimberti porta il progetto di Amerigans, quindi l'utilizzo massivo delle armi nelle case negli Stati Uniti, quindi ci saranno delle foto che vedrete sono molto forti, probabilmente le avrete già viste anche da altre parti, Paolo Verzone, anche lui porterà qualcosa che parla di armi però dal punto di vista della difesa, quindi dei cadetti giovani che studiano su delle scuole, delle accademie in Grecia e in Svezia. Loro rappresentano la documentary, quindi il reportage fotografico. Gli altri artisti invece fanno street photography, quindi sono tutti artisti, anche loro, molto molto importanti, però che parlano di street photography. Speriamo quindi che sia i nostri cittadini bellunesi che chi viene da fuori possa apprezzare queste strutture sulle quali verranno posate le lastre fotografiche di street art e art documentary, affinché quindi ci sia una nuova visione di questo festival fotografico che coinvolgerà la nostra città per la prima volta. Grazie.